Allora, ciao a tutti. Io sono qua, mi sono candidato perché è arrivata l'ora di dire basta. Di dire basta a questi politici corrotti che mi stanno mangiando il futuro e stanno mangiando il futuro della mia generazione. Basta a questa politica che sta distruggendo la scuola pubblica. Tutti i governi che ci sono stati hanno sempre fatto i tagli alla scuola pubblica. Basta. I svesti e gli studenti vengono pagati per studiare. Qui in Italia lo studio sta diventando un privilegio solo per pochi. Grazie.